Si è parlato della nuova rete ospedaliera dell'Abruzzo in un momento di approfondimento all'emiciclo organizzato dall'Agenzia Sanitaria Regionale, uno strumento di programmazione importante dopo un iter amministrativo di due anni e mezzo. Con la rete ospedaliera si completano gli atti di programmazione sanitaria adottati dal Governo regionale, un atto voluto fortemente dal dottor Pierluigi Cosenza che con il direttore del Dipartimento Salute Claudio De Amario ha illustrato i punti più significativi, un lavoro attento che ha permesso di superare anche dei paletti stringenti che non potevano andar bene per una regione come l'Abruzzo. I punti più importanti su cui li abbiamo fondati è stata la creazione di una rete ospedaliera in cui tutti gli ospedali sono in rete e gli utenti sanno fin dall'inizio del loro ingresso in ospedale o qualsiasi patologia il percorso da seguire. Questa è una novità che in Abruzzo non c'era mai stata la prima volta dopo 20 anni che viene approvata una rete ospedaliera e quindi adesso la programmazione è fatta. Adesso toccherà ai direttori generali con i loro atti aziendali fare delle proposte oppure recepire interamente la rete ospedaliera così come è stata programmata dall'Agentità Sanitaria. Questo è sicuramente un modello, io sono andato a un convegno l'altro giorno a Teramo dove c'erano tutti i vertici della Genas e ha detto che la soluzione che abbiamo adottato noi è l'unica soluzione possibile per delle regioni che non hanno solo aree metropolitane, quindi saremo da modello anche per altre regioni che si trovano nelle nostre stesse situazioni. La nuova programmazione ospedaliera prevede, tenendo conto dei criteri di efficienza e complementarità di discipline in relazione ai bacini di utenza, la seguente classificazione dei presidi. Quattro ospedali, l'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, con funzioni hub per le reti tempo dipendenti, rete stroke, politrauma, trauma maggiore, rete emergenze cardiologiche estese, quattro ospedali di primo livello, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Basto, sei ospedali di base, Ortona, Popoli, Penne, Atri, Giulianova e Sant'Omero, due presidi di area disagiata, sedi di pronto soccorso, Castelli, Sangre, Atessa. Tra le novità principali ci sono la riclassificazione del presidio di Sulmona, quale idea di primo livello, con il mantenimento del punto nascita, quella dei nosocomi di Ortona, Penne, Popoli, ospedali di base, sede di pronto soccorso, la classificazione dei presidi medici H24, l'Italia Cozzo, Pescina e Guardia Grele, i stabilimenti ospedaliari rispettivamente degli ospedali di Avezzano, l'Aquila e Chieti, in cui disporre specifici reparti specialistici, il riconoscimento al presidio di Atessa della funzione di ospedale di area disagiata. Ora saranno le singole ASDA a dover tradurre la programmazione in servizi. Per l'assessore Verì è un atto importantissimo, anche perché vuol dire avere nuovi ospedali. I punti di forza sono che questa rete garantisce l'assistenza sull'emergenza urgenza e soprattutto va a stabilire in un concetto di hub e spoc quali sono i punti di intervento per l'alta complessità e per la bassa complessità nella nostra regione. Vorrei anche ribadire che questa rete è fondamentale per gli accordi di programma che abbiamo fermato per aprire tre nuovi presidi ospedalieri e il quarto è in itinere.